Ciao a tutti! Ora vi farò vedere come fare gli extra stage di Stray Cat Dursa 2. Qui siamo nel livello 2 dove dobbiamo prendere quattro piatti. Io so già tutti dove sono perché sono facilissimi trovare. Anche se questo è l'ultimo che ho trovato. Quello lì è il primo piatto che si nasconde qui sotto il coso dell'arcobaleno. Poi c'è un piatto dietro al mio orsettino, al piccolo orsettino. Qui dentro non c'era niente. Poi c'è, no, dovrebbe esserci qualcosa ovviamente qui sopra. Ah, eccolo qui sotto. No, no, qui no. Ah, eppure vi farò vedere le altre tre. Qui siamo alla prima. Ne ho trovato uno qui dentro. Poi, uno sotto il tavolo e uno dietro all'orsetto. uno qui sotto a questo tavolo. Vorreste vedere. Poi penserebbe che c'è da sedersi. Però, no, c'è un piatto sotto il tavolo. Poi si va in cucina. E il piatto non è qui sopra. Allora, il piatto dovrebbe essere qui da qualche parte. Ah, eccolo qui per terra. Perché ho fatto un pochino di tempo fa. Quindi, qui non li lavo. Veramente qui sarebbe da lavarli. Allora, andiamo in salotto. dove pranzeremo. Con i pelucini bellissimi. Molto simpatici poi. No, no. Ok, si va qui dietro. e vedete la zampetta che c'è da toccarla e dobbiamo mettere i quattro piatti che ho messo tutti. Quindi c'è da toccare il piatto che avete in alto e toccare il piatto che c'era dentro questo fumetto. Poi si va in cucina e si lava. So che è un pochino strano perché come si è messo tutti lì. Poi qui i piattini si lavano molto bene. E poi si passa in salotto. Allora. mettiamo i quattro piatti. Molto bene. E' una stella completata. Quello che mi serviva. Molto bene. Eh no eh. Eh no. No. Eh no. No. Eh no. No. Grazie. Grazie. Extra stage. La seconda. Ma perché è già completata tutte. Allora, seconda. dovremmo trovare le forchette. Quattro forchette ovviamente. Quattro forchette. Una qui dietro alla... Sembra spazzata. Allora. Qui dietro alla piantina. Una forchetta. Una forchetta si sale. E poi... Qui dietro a questo. C'è la forchetta. Dietro ai primi... E gli ultimi due libri. Il quattro e il cinque. E qui c'è una forchettuzza. una forchetta. Una forchetta. Una forchetta. E qui c'è una. E qui c'è una. E qui c'è una ma... E qui c'è una cucina. Sopra è il coniglietto. Ovviamente. Cunigliettino, non mangiarti la forchetta eh! No. No. Ti porto via. Ti porto via coniglietto. Ti sto rapendo. ora rapirò anche l'altro il pelucino in alto nel cielo blu ok allora ci mette qui si mettono le quattro forchette e si vanno a lavare col sapone col sapone eh si col sapone troviamoci le manuzze e prendiamo le forchettuzze e andiamo qui in salotto vittoria per ammoglio qui metto la connessione va bene anche se non mi insegna il alfabeto qui no io tolgo connessione andiamo avanti al livello ok spero mi vada anche senza connessione da tre tre è già fatta già fatta però non l'avete fatta sicuro il 100% le come si chiamavano le tazzine tazzine ma qui dentro ben visibile visibilissima poi dove era l'altra no vabbè qui si sale si sale ovviamente perché mi ricorda che ne era una anche qui è una tazzina che dovrebbe essersi rotta perché qui dietro sotto il lettino però vabbè anche se non ti rompi è lo stesso allora tu tu ok qui dietro e questa è già la terza portiamo questo mio orsettuzzo e vabbè è un orsetto però questo mio pinguino quindi poi andiamo a prendere l'ultima tazzina chi è qui sotto perché non la vede eh voglio prendere qualche pizziolino eh ok e mettiamo le tazzine e laviamo il sillava il mondo comunque queste tazzine mi ricordo ancora che io non sapevo mettere non sapevo praticamente che bisognava lavarle avevo tutti e quattro i piattini però non sapevo neanche che dovevo metterli sul tavolo anche se sono sporchi quindi lavo come se non li avessi ma allora tazzine è troppo stiamo all'ultima che bello ma che aspe aspe vabbè spostiamo ok ci siamo 15 vuole la connessione e vabbè 30 gemme è quello che mi serviva grazie mille non insegnarmi l'alfabeto per favore per favore poi è anche un alfabeto stranissimo ad molto bene x mo l'extra l'ultima quella a quattro play stiamo facendo 10 minuti vabbè queste quattro bellissime fragoli che laverò col sapone si laverò col sapone orsetti non mangiarti subito la fragola rispetto all'orario di mangiare e tu piantina bellissima che fa le fragoline molto bene andiamo in alto aspe no 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 ok qui ovviamente non c'è la faccina arrabbiato e arrabbiato si tocca e si apre non so perché ma si è cancellato e il bottone povero bottone povero cagnolino che triste povero piccolino povero cagnolino vabbè tanto chissene ok per chi non sa che cosa serve un ombrello un ombrello serve per ripararsi alla pioggia e quindi serve pure per prendere le cose alte in questa fragolina che voleva mangiare il pesce non so come ha fatto da arrivarci però ok mo laviamo le nostre bellissime fragoline con i sapori che bello così ne mangiamo saponate che avranno un gusto strano però saranno buonissime le buone di così non si potevano fare infatti laviamo con il sapone le manine mi sa che sono sprendite perché la lavavate con il sapone bellissime fragoline bruttissime ok fragoline extra da mangiare e questa extra stage finita bravo mangiati la bravissimo bravissimo immaginate la roba si quello che mi serviva add no 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 ok 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 molto bene faccio anche un'altra extra stage quella da nudo che veramente non non l'ho mai fatta quindi provo a farla con voi si metterà mezz'ora però vabbè allora finfrog devo trovare lei ciao ah devi trovare perché l'hai perso il tuo miglior amico poverina dove dove c'è c'è piccolina fring frong è morta è morta eccoti ehi vieni qui ma era facilissima questa fring frong dai con me non scappi frong frong ti chiamo frongo ti chiamo frango no oh ma che scappi guarda sei la tua migliore amica qui chi ti sta aspettando sei morta pensiamo che tu sei morta ma sei ancora vivo per fortuna allora non è l'ora di giocare però io non sono uscivo dove sei? oi sei andato da questa parte questo è un buon indizio poi dove sarai andato ma che cosa? se sto facendo una cosa da nuba non sai anche farla eccola fring frong no io stavi morendo dove caspita di sei andata ecco eccoti fring frong e vuoi la bc5 è quello ma io dove lo trovo? non c'è dove sei? librettino sei la mia vita librettino c'è devo trovare un libro in mezzo tutta sta roba c'è l'acqua però se io potessi salire qui no mi hanno dato la bc5 grazie quello che gli avevo dato loro vieni piccola ranettina c'è il tuo no ma perché non mi sono messo il cappuccio? ora metto il cappuccio e poi facciamo un altro perché sta piovendo povera me mi sto mi sto bagnando basta please basta please bello di unicorno no grazie vabbè non ho voglia facciamo la stage senza metterci il cappuccino il cappuccino da mangiare vabbè non so che c'è allora l'altra Fing Frong poverina è morta anche lei eccoti dove sei Fing Frong Fing Frong ah sei lì oh se ne sono andati i cricettini forse perché gli ho tolto il loro libretto no ok dove sei ranocchietta che cosa vuoi in cambio ah no ancora scappare pensavo che io volevi qualcosa in cambio e di sicuro ah no gli scogliattoli dove sei scogliattolini cosa avete grazie grazie scogliattoli tieni arrivo non ti deluderò ma mia bellissima quindi faccio due extra che bello che bello mi è dato un bellissimo skin un bellissimo un bellissimo mino no 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 eh no eh no non lo voglio doppio scusami extra stage mi da 30 wow me ne è da tantoni oddio ok fin frog ma che schifo che sei cioè devi morire non è che devi morire però tu proprio tu non essere arrabbiato che la vita è bella guarda che ti ho scoperto in tre secondi sei qui sopra bravissimo comportamento bellissimo eh basta rane ranettone dov'è tuo figlio no ti ho perso per sempre veramente sento questa parte non ti vedo sei troppo verde è per colpa tua che non ti vedo perché sei troppo e scusatemi eh c'è proprio lì in vista dove non lo vedete guardate è qui dentro lì dietro la sua mammina ok tu per favore dove sei dai per favore per favore ranucchina ti sto cercando da anni gli anni stanno passando e tu sei ancora lì in ubole ma mi dispiace ma perché io non ti aiuterò perché tu scappi allora 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 non ho detto che sia andata per forte con la parte ma dove sono le tue scogliattolini le scogliattolini dove sono scogliattoli ho bisogno di cercare questo fring frong certo che ho detto te lo troverò te lo non fa il cattivo io te lo trovo secondo me non lo trovo se voi lo vedete non so cosa cioè dove è dove si vede tutto il verde è bello vedete che mi sto spavendo e mochi lo vede quella ranettina era qui qui dietro ma chi la vedeva cadiamo sì allora stavolta ti devo trovare insieme a quelli scogliattoli ma cosa vuoi cosa vuoi dai ah un ramo che non mi danno si colori scogliattoli eccoli ma chi li vedeva datemi per favore la ranettina grazie grazie mille le cose più belle d'Italia ecco a lei ecco a lei il suo figliolo dolgissimo madre guardate i suoi tre figli no non dirmi che me ne manca una sì me ne manca una mi manca una ma piccolissima però ci metteremo ancora non lo so quanto ok allora x oltre stage l'ultima dai che la faccio qui ci ho messo un pochino di più perché non l'ho ancora fatta una volta fin frog devo trovare l'altra frog frog dov'è l'altra frog secondo te ma mi sulla chi ha un bambino secondo te ah no non ti ho ancora data una così e ma quanti figli che c'hai tu speriamo che sei più genio e non ti fai scappare troppe volte dove sei? per favore rannettuzza no gli scugliatori se ne sono andati no 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 è però voglio che è così in fretta io aspetto qui ecco ti però gli troverò gli scugliattoli non se ne possono essere andati sono per forza qui perché sono povera vita gli scugliattolini che ci sono per allora fanno andati questa parte lei c'è la rana rana dove sei? rannettina dove sei andata? dimmi che sei qui vicino a me perché se no non ti troverò mai ma chi ti vede? rannetta allora se non parto del tempo a parlare con nessuno rannettina so che sei molto cattivo e non ti vuoi far trovare però dimmi dove sei ti porterò da tua madre sono una bravissima pampina guarda sono bravissima più brava di come si chiama? più brava di te perché tu ti nascondi e non ti fai trovare quindi no sto cercando dove non è dove sei? dove sei? dove sei? l'anettizza forse ti trovo in un posto che io ho già visto non lo so l'anettizza e dai che è l'ultima stage ci stiamo mettendo troppo l'anettizza l'anettizza e mo chi ti vede? sei saltato a questa parte mo ti vedo ora vedi che io ti quindi ora vedi che ti trovo no no please trovati no ralettina mi sa che questo video è durato un pochino troppo e no è così e dove lo trovo un so c'è un euro dove lo trovo e dimmelo rana ecco gli scugliattolini che mi daranno ancora i soldini tra 6.000 per prendere il tuo ultimo figlio ecco dove era ti ho messo un euro in mezzo eccolo figlio che ora prenderò anche se non volevo bene dirlo ok mo sei contenta di avere tutti i tuoi quattro figli si complicato mo concludo il video a 26 minuti sarà un pochino troppo però no eh no perché vengono tutti di quelle pubblicità ok allora mi saluto in questa casa la mia casa la mia casa no che bello secondo me è meglio oppure mettere no quella che piange ma non si lo sta piangendo si sta grattando no tu che canti si che sei bello no 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 eh no ma scusami che cos'era la cartina non l'ho ancora vista giuro ok cartina quando lascio la mia quando lascio la mia con i miei gatti no sono lasciati i miei gattini no non dimmi che non li ho più vediamo l'ultima cosa no eh no ok no non c'è ria che fa ah no i bonus allora no ma che cos'è il vietato ah no non era vietato no non dirmi che non ci sono i gattini no non ci sono no vi devo far vedere questa cosa troppo bella la prima cosa se non sbaglio no no non era questa no sì questa volta guarda che è qui beh lo sto pitturando le gattine no sta arrivando a rompere tutto e poi ah devo trovare ancora pochi pezzi e poi vanno lì si apre la portina e poi entrano i gattini e poi viene scritto strike et burs burs finito ciao non so una cosa molto brutta mi ha durato mezz'ora ciao